Si voleva appunto proteggere la città dagli attacchi dei barbaristi quindi hanno costruito queste mura con la porta dei leoni, due porti appunto di Santa Teresa e di Santa Cristina e quello che volevo far vedere appunto dall'alto è il calato delle reti delle tonnare perché appunto in questo periodo, in aprile e maggio, è stata la pesca al tonno il tonno sapete che per...